Il distretto Serico è leader mondiale nella produzione di testate. Ben 1.600 imprese operano nel distretto del legno Arredo. Oltre 1.600 aziende attive nel settore del florovivaismo. Più di 5.000 imprese appartenenti all'eccellenza della metalmeccanica. Il lago di Como è sempre più visitato. Nel 2018 ben 3,7 milioni di pernottamenti. Cosa possiamo fare per costruire un mondo più equo e dignitoso? Enti e imprese possono fare qualche cosa? Sì, con la Corporate Social Responsibility, CSR. Ma che cos'è la CSR? La CSR è la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. Quali sono i vantaggi per le imprese? Effetti positivi sull'immagine e la reputazione aziendale. Effetti positivi sulla motivazione dei collaboratori. Miglioramento dei processi e risparmio dei costi. Miglior accesso al credito. Migliori relazioni con le altre imprese, la comunità locale e le autorità pubbliche. Miglior fiducia e fidelizzazione della clientela. Riduzione e miglior gestione dei rischi. Maggior competitività. Quali sono i vantaggi per il territorio? Creare valore condiviso. Gli ambiti della CSR sono Governance, mercato, risorse umane. Comunità, ambiente. La CSR si costituisce attraverso l'adozione di buone pratiche. Qual è la sfida? Valorizzare il territorio facendo della sostenibilità economica, sociale ed ambientale di impresa un elemento distintivo e di vantaggio competitivo. Progetto Smart, Camera di commercio di Como, SUPSI, Un'industria Como, Università Bocconi e SQS. Unione di forze e competenze per le imprese e il territorio.